Non ho freddo eppure tremo, perché ormai so come in un mio sogno, questa propria qui non mi sveglierò, sento che tu sei quell'amica che io non ho. Sono a casa qui, più di quanto mai sarò. Alzati Sara, mettiti sulla sella. Ecco Sara, oggi è il suo compleanno, ciao Sara. Buon compleanno, amore mio. Ho preparato tutta la connessione. Stai preparando tutto, perché vedi che non c'è nessuna festa, nessuno ti sta preparando niente? No. Allora lo prepari tu? Sì. Bene. Certo, perché non so, nemmeno un cibo. Nemmeno un cibo, quindi che fai? Stai sparando. Ecco Sofia, è arrivata Sofia. Sì, è una fettoggiata. Ma quanto sei cresciuta? È tutto l'altro. Sta preparando la festa, perché ha detto che nessuno si sta preparando niente. Dove sta Sara? E allora lei? Perché adesso ho una bottiglia qui. Perché al centro, quando sono sete, mangio una cosa che devo preparare. Dove sta la Sonia? Giusto, sta in camera. Senti, ma allora dove la prepariamo sta festa? Dove la facciamo? Qui? Tutto qui. Tutto qui. Siccome oggi ha piovuto tantissimo, era entrata tutta l'acqua. Ma adesso si è asciugato, è uscito pure il sole. Vede c'è? Beh, non si vede il sole, però c'è, c'è, c'è il sole. C'è il sole. Adesso ragazzi, ci siamo tutte le cose che dicevete voi. Ma come la facciamo la festa? A te ma? Frozan di ghiaccio, tutto di Elsa? Sì. Mi preparo tutto. Ti fa ridere questa cosa. Ti fa ridere questa cosa? Sei emozionata? Sì. Ma senti un po', ma quanti anni hai fai tu oggi? Tre. Ti faccio la festa. Tre? Bene. Adesso devo preparare. Ok, mangiamo tutto lì? Sì. Va bene. Ok, allora ragazzi, Sara intanto prepara e ci vediamo tra un pochino con la sorpresa. Voi dovete trovare tutte le cose. Sì. Noi tutti diamo una mano adesso. Gonfiamo i palloncini. Allora, guardate. È così. Così. E dopo la trasformiamo in una festa. La festa di Frozan. Per la bellissima sala. Tre anni. Sì. Per la prima parte. Grazie. Sì. Quasi. 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 hai visto che bello che ti abbiamo fatto no adesso non li puoi mangiare tra un pochino perché ancora ne è iniziata la festa tua ecco la principessa torna quando si sveglierà troverà il suo vestito e Come nel mio sogno, prendi il cavallo, questa è propria e qui non mi sveglierà, tanto che tu sei quella amica che io non ho. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Sara, tanti auguri a te. Soffia, aiutatela! Sara fai il ghiaccio! Fai il ghiaccio mamma! Fai il ghiaccio! Eh la truccole! Eh la truccole! Eh 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 guarda le manine! Scarta la carta, scarta la carta, dai! Scarta la busta, vediamo se ti gusta, scarta la busta, vediamo se ti gusta! Scarta la busta, scarta la busta! Scarta la busta! Che cos'è oddio! Oh, è bellissimo! Fighissimo! Fai vedere, fai vedere E mettila, fermala E mettila, fermala Il cavallo di Elsa Ah, il cavallo di Elsa Bellissimo Sara, ti piace? Ma questo me lo metto anche io Grazie, zia Sì, sì, domani lo metto io Sì, sì, domani lo metti subito No, è di Sara Chi se lo mette domani? Sara Noi Dai glielo a Sara Guardate io Dai, dai un altro regalo Un altro regalo di Sara Bellissimo Un altro regalo di Sara Un altro regalo Bello, adesso E tu puoi Le interi Sieni Ah, qui, la gris Scusa, scassa, scassa Scusa, scassa Rompite tutta la busta Oddio, scassa Oddio, ma cos'è? Scassa, scassa Oddio, ma cos'è? Ma cos'è? Guarda, ghiaccia Ma che cos'è? Aspetta Il ghiaccio è assai Il ghiaccio è assai Le mette sulla scarpa Pure sulla mano Pure sulla mano E allora stasera Stasera Fai il ghiaccio Stasera Fai le scie di ghiaccio Vai Che lo fanno a casa Scusa Scusa Che c'è? C'hai visto tutto Trappate Piano, piana Ma sono due Oddio, c'è n'ha Oddio, c'è n'ha Oddio, c'è n'ha Questa si illumina Tutte e due Fa ghiaccio e non è nusso Anche Elsa canta Guarda, guarda Devi mettere Anche Elsa canta Premi qui Guarda qui che si è acceso ad Elsa Fatemi vedere Senti, senti Elsa fa ghiaccio Senti, senti Guardate lei Guardate lei Guardate Elsa Fate vedere Anna Oh Anna E ci fate vedere Carine Guarda che carine Beh Insomma quindi va tanto Abbiamo un altro regalo? Ma no Ci sono uscite due E' collegato al primo E' del belissimo Questo è mio Questo è di Sonia Di Sonia No, c'è l'altro Quello che gli hai fatto tu a Sara Questo te lo regalo a Sara Eh Sonia Ma che è ancora il primo Prima che uscisse il tuo E quando era in moda La ponte Ah, prima Sì No, è bellissimo No, il secondo è ancora più bello Perché è collegato al primo È collegato alla storia Da qualsiasi Sono 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 Tutto Bello Tutto Tutto Bello Poi vedi Poi i vestiti Alla famiglia Beh c'è Ma ci avrà una decina d'anni No Siamo pronti a Sara Quanti regali Sara È bellissimo Questo gliel'ha fatto Sonia Gliel'ha fatto Senti Questi due Ma strappoli Sonia Ti potete mettere conto Sonia e Sara Ma che bel regalo No, non puoi prendere Ma Quello gliel'ha fatto Sonia Mio Dio Che cos'è Pedrò Oh Dio Che cosa è ора Questo gliel'ha comprato a Sonia 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 ha deciso Vuoi vedere Che fa lei Guarda Chi fa? Guarda Ti ha dato un bacino, bella Saretta! Tanti auguri! A trend di morang, bella Saretta! Tanti auguri, bella Saretta! Ti ha dato un bacino, bella Saretta! Chiudas ha dato un bacino, bella Saretta! buongiorno buongiorno a tutti oggi fuori piove e noi approfittiamo per scartare i regali che sala ricevuto allora l'abbiamo già scartata vediamola un po e vediamo un po e vediamo un po il buio fammi vedere il vestito si illumina i pantaloni miei anna la scattiamo tutte e due perché perché è l'unica dopo ci fate anche un bellissimo gioco è ok allora quale scattate adesso scatta sempre sarà e fai vedere un po che altro hai scartato già questo che cosa succede con sarà si mette alla scarpa così guardate è un proiettore per la scarpa e questo si stacca qua e si mette qua sulla capiglia ok ecco qui i capelli 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 sono attaccati vabbè scarta tutta la carta poi vediamo a servono le forbici è bellissima che bella treccia spettare sarà bella questa treccia giochiamo tutte e due sarà che è l'unica da girano quando tu fai Elsa le fa Anna se no come fai a farle tutte e due bello un bellissimo vestito guarda come è fatto bene adoro questi stivaletti guardate Sara si è messa anche il vestito della festa vai tieni gioca con loro ma vediamo che lei che fa se io muoviamo i braccio no lei fa così guardate ragazzi bella gira mi è piaciuta ragazzi